Benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti in cui affronteremo l'argomento relativo ai thread in Java. Che cosa sono i thread? Beh, sostanzialmente un thread è un meccanismo che viene utilizzato da un sistema operativo, da un processore, per gestire la concorrenza, ovvero l'esecuzione contemporanea di più flussi di esecuzione. Questi flussi di esecuzione sono per l'appunto chiamati thread. I thread in generale hanno in comune quello che si chiama uno stato, ovvero file, variabili, descrittori, eccetera. Normalmente i thread sono utilizzati per vari scopi. All'interno dei sistemi operativi, normalmente, quando viene avviato un processo, il sistema operativo assegna un thread per l'esecuzione delle istruzioni di ciascun processo. Quando abbiamo operazioni di calcolo parallelo o calcolo scientifico, in cui deve esserci un'elaborazione intensiva di tante informazioni, una possibilità per velocizzare questo calcolo è di fare più calcoli in parallelo, per cui possiamo utilizzare più thread che eseguono calcoli su parti separate dei dati. Quando abbiamo dei sistemi distribuiti, normalmente, l'interazione con un server remoto è un qualcosa che può avvenire in parallelo alle elaborazioni che vengono fatte in locale, ad esempio le interazioni con l'utente. Per cui, di nuovo, possono essere utilizzati dei thread separati per gestire l'interazione col server e l'interazione con l'utente. Interazione con l'utente che è fondamentale all'interno di applicazioni grafiche, dove normalmente c'è un thread che viene dedicato a gestire tutti gli eventi di interazione, quindi i clic sui pulsanti, l'inserimento dei dati da tastiera, eccetera, e eventualmente, in presenza di operazioni più intensive, che richiedono più tempo, è possibile dedicare un thread a queste operazioni senza dover, in questo modo, interrompere l'interazione dell'utente con l'applicazione. A questo punto è bene distinguere due concetti fondamentali. Uno è quello di processo. Un processo, da un punto di vista di sistema operativo, è un'istanza di un'applicazione, un'istanza in esecuzione. Quindi, quando viene lanciata un'applicazione, un sistema operativo associa a un processo, attiva un processo, e gli associa uno spazio di memoria, spesso si tratta di memoria virtuale, il codice, quindi il codice da eseguire per l'applicazione stessa, uno spazio di dati e, eventualmente, delle risorse del sistema operativo, quali ad esempio i file. All'interno di un processo, poi, sono contenuti uno più thread, sicuramente almeno uno, che è quello che viene avviato dal sistema operativo all'inizio per eseguire le operazioni del processo stesso, partendo da quello che, normalmente, viene chiamato un entry point. L'entry point è, normalmente, la funzione main in C, piuttosto che il metodo main in Java. Quindi, l'altro concetto importante è il thread, ovvero l'unità base a cui il sistema operativo associa delle risorse di esecuzione, risorse di esecuzione che, sostanzialmente, coincidono con del tempo. Quindi, il sistema operativo assegna a ogni thread un certo intervallo di tempo in cui può andare ad eseguire le proprie operazioni. Perché fa questo? Perché, sostanzialmente, molto spesso il numero di thread è superiore alle capacità di esecuzione di una CPU, per cui è necessario andare a suddividere il tempo tra più thread. Quindi, quando ho più thread che possono essere eseguiti, il sistema operativo andrà a scegliere uno o più, in base alle capacità di esecuzione effettiva della CPU, e assegnerà un intervallo di tempo. Terminato l'intervallo di tempo, il sistema operativo andrà a reclamare le risorse, quindi fermerà l'esecuzione del thread e passerà l'esecuzione a un altro thread. Ovviamente, è possibile avere più thread che eseguono contemporaneamente lo stesso frammento di codice. Ovviamente, ogni thread avrà proprie risorse locali. Ad esempio, quando io ho due thread che eseguono lo stesso metodo, ogni thread avrà una propria copia delle variabili locali. Quello che viene condiviso sono le variabili globali. Ad esempio, se due thread eseguono lo stesso metodo all'interno di un oggetto, gli attributi che entrambi i thread vedranno saranno esattamente gli stessi. La vera e più thread che vengono eseguiti dà sostanzialmente la possibilità di eseguire quello che è il multitasking. Il multitasking può voler dire due diverse cose. Da un punto di vista dell'utente, è la capacità di vedere la nostra applicazione svolgere più task, più compiti contemporaneamente. Per cui io posso andare a editare un file mentre lo sto salvando. Da un punto di vista di sviluppatori, i thread ci permettono di andare a ottenere un multitasking che significa andare a svolgere più compiti contemporaneamente, alcuni magari non direttamente in interazione con l'utente. Quindi il multitasking ci permette di assegnare diverse risorse di esecuzione, quelle che di solito vengono chiamate slice, ai thread. E normalmente, in maniera cosiddetta preemptive, il sistema operativo, quando è terminato il tempo di esecuzione, sostanzialmente ferma un thread e assegna l'esecuzione a un altro thread. È anche possibile che un thread, prima di terminare la sua slice, termini l'esecuzione perché ha finito quello che doveva fare, oppure un thread si può fermare prima della fine della propria slice di tempo perché è in attesa dell'esecuzione di una qualche operazione di input output. Ricordiamoci il concetto di gerarchia della memoria. Quando io accedo a un file su disco, questa operazione è molto lunga rispetto alle dimensioni della slice, che normalmente sono di pochi millisecondi. Per cui il thread che richiede un'operazione di input output normalmente viene messo in attesa, si lascia eseguire un altro thread, nel frattempo viene svolta l'operazione di input output col disco che richiederà del tempo, più slice probabilmente, dopodiché quel thread di nuovo avrà l'occasione di andare a elaborare i dati letti dal disco. C'è anche la possibilità di avere thread con livelli di priorità diversi, quindi appena c'è un thread con priorità più alta, automaticamente quelli con priorità più bassa vengono fermati in modo da dare la possibilità a questo, con la priorità più alta, di essere eseguito. Normalmente quando io ho si più moderne, non ho la possibilità di eseguire soltanto un thread per volta, ma più di uno, e quindi effettivamente quello che ottengo è un'esecuzione realmente parallela di più compiti. Ovviamente, come dicevo prima, il numero di thread normalmente è più elevato di quelli che sono i nuclei, i core delle CPU, per cui avere questi slice di tempo abbastanza ridotte sostanzialmente mi dà l'impressione di avere tantissimi thread che vengono eseguiti tutti come se fossero eseguiti in contemporanea. Normalmente un thread consuma delle risorse per mantenere le informazioni sui thread, per poter passare da un thread all'altro, e quindi generalmente quando io ho tanti thread, questi consumano delle risorse. Generalmente le risorse richieste da un unico thread sono molto inferiori rispetto alle risorse richieste da un processo intero, per cui in generale è molto più economico in termini di prestazioni andare ad avere un unico processo con tanti thread piuttosto che avere tanti processi separati. Ovviamente ci sono anche problemi legati al fatto che quando ho più thread che operano sugli stessi dati ci possono essere dei conflitti, quindi due thread che cercano di scrivere o di leggere, uno di scrivere e l'altro di leggere le stesse aree di memoria possono dare adito a problemi di conflitti. di cui parleremo poi più avanti. Quindi l'idea è che quando io ho a che fare con i thread ho sostanzialmente più compiti che vengono svolti in parallelo. Un aspetto importante da tenere presente quando abbiamo a che fare con i thread è che normalmente il comportamento di un programma che ha al suo interno più thread non è deterministico, quindi è difficile sapere esattamente che cosa succede. Per cui se l'esecuzione di un programma ci dà un certo risultato non possiamo essere sicuri, a meno che non prendiamo opportune precauzioni, che il programma ci dia sempre lo stesso risultato. Per cui io devo andare a mettere in piedi dei meccanismi di sincronizzazione e delle garanzie che mi permettano di fare in modo che il comportamento sia sempre lo stesso. In generale, quando io vado a programmare con i thread devo ricordarmi che c'è veramente poco di garantito. Quindi sostanzialmente l'ordine con cui vengono fatte le cose normalmente non è sempre lo stesso. Quindi se eseguo lo stesso programma più volte con lo stesso input avrò output diversi che dipende dall'ordine con cui vengono eseguiti i thread. Per cui il meccanismo di assegnazione delle slice di tempo ai thread varia di volta in volta. Questo meccanismo di associazione viene di solito fatto da quello che si chiama uno scheduler, ovvero una componente della Java Virtual Machine che decide qual è il prossimo thread da eseguire nel momento in cui è possibile eseguire in un altro e quando andare a fermare un thread e dare possibilità di esecuzione a un altro. Alcune GVM hanno uno scheduler proprio, altre utilizzano quelle del sistema operativo e utilizzano quelli che normalmente vengono chiamati i thread nativi. Quindi quando ho delle CPU moderne che contengono più core normalmente ho un thread in esecuzione per ognuno dei core. e quindi sostanzialmente ho più thread che vengono eseguiti tuttavia per quanto riguarda l'ordine con cui vengono scelti e quindi quale sarà il prossimo thread a essere eseguito non c'è nessuna garanzia quindi non posso sapere in anticipo quale thread verrà eseguito per primo e soprattutto non c'è nessun controllo quindi non posso andare a forzare nulla a meno che effettivamente non blocchi io esplicitamente un thread e quindi dia la possibilità a un altro di essere eseguito. A questo punto veniamo a vedere come possiamo trattare i thread in Java. In Java esiste una classe che si chiama thread che rappresenta per l'appunto il concetto di thread e che ha un metodo run che è quello che rappresenta l'entry point quindi il punto di inizio dell'esecuzione del thread. I thread possono essere creati come classi che derivano dalla classe thread in cui vado a ridefinire il metodo run oppure posso dare come parametro a un thread un oggetto runnable ovvero un oggetto di una classe che ha un metodo che si chiama run che rappresenta quello che è l'entry point quindi il punto di inizio di esecuzione. Per cui in generale ho queste due possibilità posso andare a creare una classe che stende thread che ridefinisce il metodo run oppure posso utilizzare un oggetto di una classe che implementa runnable con il metodo run a questo punto in un caso creo un thread nell'altro caso creo un thread con l'oggetto runnable che rappresenta quello che verrà eseguito una volta che ho creato il thread devo ricordarmi di avviarlo perché il semplice creare un thread non avvia la sua esecuzione per cui devo andare a utilizzare quello che è il metodo start per poter effettivamente dire al sistema operativo di avviare l'esecuzione del thread altrimenti prima il thread si trova in uno stato che si chiama new ed è considerato ancora dormiente dopo che chiamo il metodo start ecco a questo punto il thread diventa vivo e può essere eseguito dallo scheduler quindi gli verranno dati frammenti di tempo le slice per poter essere eseguito attenzione che il metodo start può essere chiamato una sola volta per thread quindi quando una volta che ho creato il thread questo viene avviato prima o poi terminerà ma non posso riavviarlo devo crearne uno nuovo altrimenti viene lanciata quella che è una runtime exception come funzionano i thread? allora vediamo in questo semplice esempio che cosa abbiamo a disposizione allora abbiamo un metodo main che chiama m m che cosa fa? il metodo m crea un nuovo thread lo avvia con lo start e poi chiama il metodo say hello che è quello qui sotto che sostanzialmente stampa a quindi il nome e hello il thread che io vado a creare sostanzialmente è un thread di questa classe mythread il cui metodo run chiama anche lui il metodo say hello lo stesso di prima però gli passa t quindi sostanzialmente il thread principale quello che viene avviato dal sistema operativo all'avvio del processo andrà a chiamare say hello con main mentre invece il nuovo thread che è stato creato è avviato qua andrà a chiamare say hello passando la stringa t quindi cosa avviene passo passo? allora all'inizio abbiamo il nostro programma con un thread principale che non viene ancora avviato nel momento in cui viene avviato questo andrà ad eseguire il metodo main il metodo main chiamerà a sua volta l'altro metodo m e quindi qui abbiamo la chiamata del metodo n questo se volete è lo stack di chiamata relativo al thread principale m che cosa fa? sostanzialmente andrà a creare un nuovo thread t questo thread per il momento è fermo non sta eseguendo nulla e quindi non è stato fatto ancora nulla a questo punto il prossimo passo sarà quello di avviare il thread t attenzione perché a questo punto inizia il comportamento che è non necessariamente deterministico perché? perché io non so se il thread t una volta avviato eseguirà direttamente run chiamando say hello oppure se invece il thread principale prima che il metodo che il nuovo thread possa effettivamente eseguire qualunque istruzione chiami lui direttamente il metodo say hello una possibile esecuzione è quella in cui io ho il metodo scusate il nuovo thread che esegue il metodo run del proprio oggetto thread e chiama say hello è chiaro che il say hello chiamato dal thread principale o dal thread t possono avere due ordini diversi quindi io avrò in alcune esecuzioni di questo codice main due punti hello nell'altro caso avrò t due punti hello per primo questo dato questo frammento di codice in cui non c'è nessuna sincronizzazione esplicita tra i due thread è incontrollabile ok? e non è predicibile vediamo qualche altro piccolo esempio di thread in questo caso io creo una classe counter che stende thread e questa classe ha un metodo run che sostanzialmente fa un ciclo da 0 al valore num e va a stampare name quindi il nome dell'oggetto e il numero per cui se io vado a creare un counter t1 che chiamo Kevin e che deve contare fino a 10 un counter t2 che chiamo Bob e che deve contare fino a 5 facendoti 1 punto start e 2 punto start entrambi i thread faranno un conteggio il primo da da 0 a 10 in realtà da 0 a 9 e il secondo da 0 a 4 l'ordine con cui compariranno le stampe dei due thread Kevin e Bob ovviamente non è predicibile esattamente come prima altra variante in cui invece di andare a fare una classe che stende thread vado a creare un oggetto counter che implementa runnable sostanzialmente analogo a prima solo che in questo caso il metodo run che è uguale a prima si trova in una classe che non implementa thread ho due variabili private quindi il numero e l'etichetta da stampare l'unica differenza qui è che quando vado a creare i due thread passo anche un oggetto counter che avrà i due parametri Kevin10 e Bob5 quindi esattamente analogo a quello di prima e poi avvio i due thread l'unica differenza rispetto a prima è che in questo caso passo esplicitamente un oggetto che implementa runnable nell'altro caso vado a creare un oggetto che estende thread ovviamente sfruttando runnable che è un'interfaccia funzionale posso andare a scrivere lo stesso codice di prima utilizzando delle lambda per cui posso andare a scrivere new thread int stream range 0 1 map to object i freccia Kevin due punti da i e poi for each system out print questo fa sostanzialmente la stessa operazione che abbiamo visto prima solo che invece di utilizzare un ciclo for utilizza uno stream di interi i cui elementi stanno in un range da 0 al numero l'altro l'altro thread fa la stessa cosa solo che va da 0 al numero 2 stampera Bob e poi ho t1 e t2 punto start visto che questo codice in realtà è duplicato quello che potrei fare è andare a creare un oggetto runnable tramite una factory un factory method ovvero un metodo che costruisce un oggetto runnable che poi posso utilizzare come oggetto da eseguire all'interno di un thread infatti quando io chiamo questo metodo counting mi restituisce quanto viene creato da questa lambda a counting passo un'etichetta e un numero e questo mi restituirà un oggetto runnable il cui metodo run crea uno stream di interi da 0 a num stampa l'etichetta più il valore e poi fa un for each system out print a questo punto posso chiamare i due thread passando di counting che mi restituisce l'oggetto runnable e l'altro counting e poi fare t1 e t2 punto start di nuovo sostanzialmente lo stesso risultato ricordiamoci che a parte le differenze sintattiche di questi quattro esempi in pratica ho due thread che vengono eseguiti e quando ho più thread che vengono eseguiti non c'è nessuna garanzia sull'ordine di esecuzione sul fatto che un thread una volta che inizia a eseguire termini il suo conteggio o il suo task più in generale che ci sia un loop che termina prima che il thread termini in generale l'unica cosa garantita è che un thread inizia quando chiamo il metodo start e che ogni thread finisca sperabilmente perché potrebbe essere restare bloccato oppure il programma potrebbe terminare prima dell'esecuzione del thread molto spesso in java invece di andare a utilizzare queste classi di base quindi thread è l'oggetto che vi permette di andare a creare un thread e avviarlo esplicitamente si utilizzano quelli che sono degli esecutori gli esecutori permettono di gestire più task e sostanzialmente risolvono il problema della creazione di thread quindi non richiedono esplicitamente la creazione di nuovi thread quando devo andare a creare un nuovo task sono in grado di controllare il numero di thread quindi in base al tipo di esecutore io posso avere tanti task che vengono sottomessi ma un numero limitato di thread e questo permette di limitare l'uso delle risorse quando è necessario ridurlo ovviamente ho un accodamento dei task nel caso in cui i task sottomessi siano il numero superiore ai thread che li possono eseguire in un certo istante e ho anche la possibilità di andare a fermare tutti i task in esecuzione quindi questo meccanismo degli esecutori mi permette di sottomettere dei task da eseguire e non preoccuparmi del fatto che devo creare un thread devo avviarlo ed eventualmente devo andare poi a fermare tutti i thread quando voglio fermare tutta l'esecuzione esiste all'interno del package java utile concurrent un'interfaccia che si chiama executor service che ha questi metodi principali un metodo submit a cui posso sottomettere un task quindi normalmente un oggetto runnable shutdown che sostanzialmente termina il servizio di esecuzione e aspetta ovviamente che i task che ho sottomesso terminino e poi c'è un metodo un po' più brutale di quello che si chiama shutdown now che sostanzialmente termina immediatamente il servizio di esecuzione e cerca anche di terminare i thread attualmente in esecuzione e poi c'è wait termination che sostanzialmente chiamato dopo shutdown aspetta che tutti i thread in esecuzione terminino quindi tutti i task in esecuzione terminino prima di restituire il controllo serve sostanzialmente per poter coordinare un thread principale con un servizio di esecuzione quanti tipi di servizi di esecuzione ci sono beh ce ne sono tanti questi sono quelli principali qui c'è una classe che si chiama executors con questi metodi statici che sono in grado di andare a generare degli oggetti di tipo executor service uno è questo che si chiama new cached thread pool che sostanzialmente è un servizio di esecuzione che crea tanti thread quanti sono necessari per poter eseguire tutti i task che vengono sottomessi quindi se io sottometto 10 task e quando sottometto l'ultimo il primo non è ancora finito verrà creato un nuovo task un nuovo thread ogni volta c'è un altro tipo di esecutor che è fixed thread pool che sostanzialmente utilizza un numero predefinito di thread per cui se sottometto più task di quelli che sono i thread presenti nel pool i task vengono accodati e appena un thread si libera viene destinato all'esecuzione del nuovo task oppure c'è questo new single thread executor che ha un unico thread e quindi ogni volta che sottometto un nuovo task questo resterà accodato finché il thread del nostro esecutore si libera a quel punto verrà passato al nuovo task e eventualmente a quello successivo se ce ne sono più in coda e poi c'è questo che si chiama new work steering pool che crea un numero di thread quindi analogo al thread pool ma il numero di thread non lo specifico io programmatore ma viene dedotto da quelli che sono il numero di core del processore che attualmente viene eseguito e quindi massimizza la capacità di esecuzione in proporzione a quelle che sono le capacità della CPU su cui viene eseguito e parallelizza al massimo evitando di andare a creare più thread di quelli che fisicamente possono essere eseguiti in parallelo sulla CPU a questo punto si tratta di capire che cos'è un task che viene sottometto a un servizio di esecuzione i task normalmente possono essere di due tipi possono essere degli oggetti di tipo runnable e quindi c'è un metodo run oppure possono essere degli oggetti di tipo callable il problema del metodo run è che è un metodo che restituisce void e quindi non è in grado in maniera almeno semplice di andare a costruire un risultato mentre invece la classe callable l'interfaccia callable ha un metodo che si chiama call che restituisce un oggetto di tipo t quindi è un tipo generico a questo punto che cosa succede quando io vado a sottomettere un oggetto di tipo callable il mio servizio di esecuzione mi restituisce quello che è un oggetto di tipo future perché nel momento in cui il metodo submit viene chiamato e restituisce un valore non è detto che il servizio il task sia già eseguito per cui l'oggetto future è quell'oggetto che sarà destinato a contenere il risultato della chiamata call che però inizialmente non sarà presente perché sostanzialmente il metodo call non è ancora terminato per questo motivo esistono due metodi all'interno dell'oggetto future is done che mi permette di andare a verificare se il calcolo è completato e quindi dentro l'oggetto future è stato messo il valore di tipo t creato dal metodo call e il metodo get che invece è quello che mi permette di andare effettivamente a leggere il valore dell'oggetto di tipo t ovviamente se io chiamo il metodo get prima che il calcolo sia completo il metodo get si blocca e quindi mi darà un risultato soltanto una volta che sarà terminata l'esecuzione e quindi l'oggetto di tipo t sarà presente per cui ad esempio io posso andare a creare dei runnable con un oggetto col metodo counting che abbiamo visto prima nella factory posso creare un oggetto di tipo executor new fixed red pool con due thread e poi posso fare un submit di counting che è in 10 e submit di counting bob5 questo sostanzialmente mi avvia i due thread non appena faccio il submit il thread viene creato e avviato e quindi ho il conteggio di prima uno da 0 a 9 e l'altro da 0 a 4 ovviamente io posso avere anche oltre a getti runnable oggetti tipo callable per cui ad esempio se io ho questo executor service che è di tipo new cache thread pool ovvero un executor che è in grado di carmi tutti i thread necessari e io ho un oggetto callable che restituisce un valore long che si chiama life universe everything che è un oggetto che ha questo metodo callable che sostanzialmente aspetta un certo numero di milioni di anni e poi restituisce 42 quando io chiamo il mio executor service deepthought e faccio un submit di questo oggetto callable life universe everything questo mi restituisce un oggetto future l'oggetto future inizialmente non avrà nulla finché non finisce questo slip di un certo periodo di tempo e quindi quando vado a chiamare answer.get questa chiamata si blocca a un certo punto finito questa attesa il mio metodo call restituirà il valore e quindi get verrà sbloccato e andrò a mettere il risultato all'interno di questo oggetto di answer e quindi potrò stamparlo finalmente quando io ho più thread da eseguire è importante ricordarsi che quando questi thread agiscono sulle stesse variabili è possibile che esistano dei conflitti quindi è necessario fare un'operazione che normalmente si chiama un'operazione di sincronizzazione immaginiamo un tipico scenario in cui abbiamo ad esempio un unico conto a cui vogliono accedere due diversi utenti che hanno magari due carte bancomat appoggiate sullo stesso conto in pratica se i due cercano di fare un prelievo contemporaneamente vanno contemporaneamente a operare sugli stessi dati quindi se noi abbiamo i nostri two minions che accedono alla classe account di più allo stesso oggetto della classe account entrambi cercano o possono cercare di accedere a lo stesso metodo withdraw e quindi fare la stessa operazione di prelievo normalmente se voglio fare un prelievo sicuro devo ovviamente andare a verificare prima che il mio saldo sia maggiore della somma che voglio prelevare e poi procedere al prelievo ok questo potrebbe sembrare tranquillo sicuro è sufficiente ma se abbiamo più thread che possono essere eseguiti questo non è sufficiente perché perché sostanzialmente i due passi che abbiamo visto prima sono distinti e quindi è possibile che fatto il passo 1 un altro utente faccia lo stesso passo prima che effettivamente il primo abbia proceduto al prelievo vero e proprio quindi ci troviamo ad avere e operare in condizioni non ben definite in cui le condizioni non sono verificate vediamo un esempio allora qui abbiamo il codice di il metodo save withdrawal che dato un importo verifica che il saldo sia maggiore dell'importo e poi effettua il prelievo restituendo true se invece il saldo non è sufficiente restituisce false immaginiamo a questo punto che i nostri due utenti Kevin e Stuart cerchino di fare un prelievo contemporaneamente dallo stesso conto il nostro conto è un oggetto che ha un saldo pari a 10 e i nostri due utenti hanno tutte e due in mente di prelevare esattamente lo stesso importo quindi 10 quindi sostanzialmente prelevare tutto quanto è disponibile sul conto in quel momento il primo a iniziare è Stuart che verifica che il saldo sia maggiore o uguale dell'importo cosa che è verificata a questo punto prima che Stuart faccia qualunque cosa Kevin va anche lui a verificare la stessa condizione in quell'istante la condizione di saldo maggiore dell'importo è verificata per entrambi a questo punto se Stuart procede ecco che va a fare il prelievo e a mettere il conto il saldo del conto uguale a 0 a questo punto anche Kevin può procedere perché nel momento in cui un attimo fa ha verificato il saldo era sufficiente e quindi a questo punto anche lui fa un prelievo andando a portare il saldo del nostro conto in negativo quello che abbiamo visto è quella che si chiama una race condition una race condition succede quando abbiamo più thread che vanno ad accedere alle stesse risorse normalmente attributi o dati dello stesso oggetto e uno dei due arriva prima dell'altro nel completare un'operazione e quindi il risultato sono dati corrotti per cui entrambi erano convinti di poter fare il prelievo il risultato è andare a andare a passare il saldo del conto in negativo come faccio a evitare la race condition l'idea è che devo andare a considerare i due passaggi quindi la verifica del saldo e il prelievo come un'entità unica quindi come un'unica operazione che di solito viene chiamata un'operazione atomica un'operazione atomica normalmente è indivisibile quindi nel momento in cui un thread fa un controllo sul saldo deve poter fare successivamente anche il prelievo senza che nessun altro thread possa intervenire nel frattempo operando sul conto come facciamo a implementare le operazioni atomiche sostanzialmente le variabili devono essere private ma questa diciamo che è una raccomandazione generale tanto più in questo caso e in più devo andare a fare in modo che l'accesso a questo metodo di prelievo sia sincronizzato come faccio lo faccio con una parola chiave che in java si chiama synchronized e che permette di definire che un certo blocco di codice o un metodo può essere eseguito da un solo thread per volta per cui io posso andare a definire un metodo come sincronizzato oppure posso andare a trassinitarsi a definire un blocco di codice sincronizzato ovviamente facendo riferimento a un particolare oggetto perché devo fare riferimento a un particolare oggetto perché sostanzialmente la sincronizzazione funziona in questo modo ogni oggetto in java ha al suo interno quello che si chiama un monitor che è un meccanismo di sincronizzazione prima che un thread possa entrare all'interno di un metodo o di un blocco di codice sincronizzato cerca di acquisire quello che si chiama un lock quindi un diritto esclusivo su il monitor dell'oggetto una volta che ha acquisito questo lock si dice che il thread possiede il lock per quel monitor è possibile che un solo thread per volta possa possedere il lock di un certo monitor se quando un thread possiede un lock un altro thread cerca di acquisirlo sostanzialmente viene bloccato finché il lock non viene rilasciato questo sostanzialmente garantisce che se un thread cerca di acquisire il lock per il monitor prima di eseguire un blocco di codice un metodo tutti gli altri thread sostanzialmente sono tagliati fuori finché quel thread lasciando il blocco di codice o terminando il metodo rilascia il monitor e quindi permette l'accesso ad altri ad altri thread quindi normalmente che cosa faccio faccio un synchronized prima della dichiarazione del metodo e quindi automaticamente quando il thread entrerà in questo metodo cercherà di acquisire il lock sul monitor e poi lo eseguirà qual è il monitor è sostanzialmente dell'oggetto che su cui viene invocato questo metodo per cui sostanzialmente questa dichiarazione equivale a mettere un synchronized this all'inizio del metodo che racchiuda tutto il corpo del metodo ovviamente io posso andare a fare dei metodi sincronizzati anche statici in questo caso la sincronizzazione avviene sull'oggetto classe che corrisponde al metodo che sto cercando di sincronizzare quando è necessario sincronizzare sostanzialmente quando ho più variabili che possono più thread che possono accedere alla stessa variabile locale e questo accesso può andare in conflitto sostanzialmente se tutti leggono direi che non c'è problema se invece ci sono alcuni che leggono e altri che scrivono questo può andare a generare dei conflitti per cui devo andare a pensare alla sincronizzazione vediamo un caso molto semplice la classe name list sostanzialmente contiene una lista di nomi e due metodi uno per aggiungere dei nomi e l'altro per andare a prendere il primo nome per prendere il primo nome sostanzialmente si verifica che effettivamente siano presenti dei nomi e poi si chiama il metodo remove se non ci sono nomi viene restituito empty cosa succede se due thread cercano di andare contemporaneamente a fare un remove di un nome da una lista che ne contiene uno solo quello che succede andando ad avere una name list aggiungendo un nome e poi avendo due oggetti che due scusate metodi callable che vengono aggiunti a due thread due executor service di questo tipo il risultato è che dati questi due future potranno contenere alla fine allora hello più empty che è quello che io mi aspetterei quindi uno dei due thread riesce a prelevare il nome l'altro non riesce a prelevare nulla però talvolta ho due volte due thread che riescono entrambi a prelevare il primo nome oppure un thread che prende hello e l'altro che prende null quindi non si sa bene da dove arrivi oppure ho un index out of bound exception per cui un thread riesce a prelevare l'altro cerca di fare un remove ma nel frattempo la situazione è corretta e trova che non ci sono più altri elementi oppure ho un hello più null pointer exception ovviamente l'index out of bound è diciamo quello più ragionevole nel senso che se uno ha controllato cerca di fare un remove nel frattempo l'altro gliel'ha tolto è corretto che ci sia un index out of bound exception il doppio hello hello più null oppure il null pointer exception invece sono problemi dovuti a delle condizioni di race condition direttamente all'interno della linked list come posso fare? beh una possibile soluzione è quella di andare a utilizzare questo metodo synchronize list che si trova in collection che sostanzialmente mi crea un wrapper attorno alla lista che mi dà un accesso sincronizzato al contenuto della lista attenzione che anche con un metodo sincronizzato io ho ancora una race condition per cui non è possibile che due thread entrino contemporaneamente dentro remove come non è possibile che due thread entrino contemporaneamente dentro size però è possibile che un thread esegua il controllo un altro lo faccia e poi due thread cerchino in ordini diversi di entrare dentro remove per cui i metodi definiti all'interno dell'interfaccia collection tipo synchronize list synchronize collection synchronize map eccetera vanno a creare quelli che sono dei contenitori thread safe ovvero dei contenitori in cui tutti i metodi sono sincronizzati quindi è impossibile che i due thread cerchino di fare un'operazione all'interno del nostro contenitore contemporaneamente tuttavia non è detto che questo sia sufficiente infatti se io vado a utilizzare una versione la versione che utilizza la lista sincronizzata con il codice di prima quello che ottengo sarà ovviamente quello che mi aspetterei ovvero uno di due future contiene low l'altro contiene empty ma alcune volte proprio perché esiste una race condition dentro il metodo remove first della classe avrò un index out of bound exception quello che devo fare è andare a considerare proprio l'operazione del metodo remove come un'operazione atomica e quindi andare a a sincronizzare il metodo remove first indipendentemente dal fatto che la mia lista di nomi sia o meno sincronizzata ma io devo sicuramente andare a sincronizzare questo metodo move first in modo che tutto questo sia considerato un'operazione atomica e quindi non sia impossibile che due thread vadano a fare in maniera intercalata la verifica della dimensione e poi l'operazione di remove quindi in questo caso finalmente usando la versione con il metodo sincronizzato tutte le volte che andrò a eseguire questo codice avrò ovviamente uno future che mi restituisce low e l'altro che mi restituisce empty attenzione che l'uso dei metodi sincronizzati può portare a quelle che sono delle condizioni di deadlock ovvero delle condizioni in cui due thread cercano di acquisire delle risorse e uno è bloccato nell'attesa che l'altro rilascia una risorsa e viceversa e quindi nessuno dei due riesce a liberarsi il risultato è che entrambi i thread sono bloccati e non riescono ad acquisire le risorse sostanzialmente in monitor per entrare all'interno di un'area sincronizzata un esempio molto semplice è quello che vediamo qua immaginiamo di avere un metodo read che acquisisce prima la risorsa a poi la risorsa b e dopodiché va a restituire la somma del valore delle due risorse e un metodo write che acquisisce prima la risorsa b e poi la risorsa a e va a scrivere i valori delle due risorse ora ovviamente due metodi scritti così sono palesemente pericolosi il punto è che è possibile che l'acquisizione delle risorse a e b venga fatta non in maniera così semplice ma magari ci sono chiamate tra l'acquisizione di una risorsa e l'altra e per cui io non li vedo scritti uno sopra l'altro in questo modo il risultato è che posso avere dei deadlock e quindi è opportuno fare attenzione quando ci sono delle risorse sincronizzate a evitare questo tipo di interazioni i metodi che abbiamo visto parlando di sincronizzazione quindi sostanzialmente la parola chiave synchronized viene utilizzata per andare a evitare problemi di race condition e quindi di risultati impredicibili un altro approccio che possiamo utilizzare eventualmente in combinazione è quello di cercare di coordinare diversi i thread in modo che questi possano accedere in maniera ordinata a delle risorse eventualmente condivise per fare questo possiamo utilizzare tre metodi fondamentali che sono presenti nella classe object e che sono wait notify notify all che cosa fanno questi metodi allora il primo wait permette a un thread di mettersi in attesa finché un altro thread lo risveglia e quindi gli permette di proseguire il metodo notify è quello che invece viene chiamato per andare a svegliare i thread che sono in attesa su quell'oggetto e poi c'è la variante notify all che invece di risvegliare un solo thread per volta li risveglia tutti quindi risveglia tutti i thread che erano in attesa nella lista associata a un certo oggetto quindi cosa succede che un thread che già possiede il lock del monitor di un certo oggetto chiama su quell'oggetto il metodo wait il risultato è che questo thread viene messo in attesa e quel thread rilascia il lock sul monitor quindi altri thread possono andare a operare quando viene risvegliato questo thread cerca di acquisire di nuovo il lock sul monitor perché ovviamente si ritrovava dentro una zona sincronizzata quindi deve poter per poter proseguire riacquisire il lock sul monitor e proseguire quindi la sua attività se non riesce a acquisire il lock sul monitor sostanzialmente resta bloccato finché qualcuno rilascia il lock e quindi il thread può finalmente acquisirlo i due metodi notify sostanzialmente cosa fanno vanno a segnalare che i thread in attesa possono essere risvegliati uno per volta o tutti e quindi permettono di andare a risvegliare dei thread dal pool che è in attesa su un certo oggetto attenzione che il metodo notify non permette di scegliere quale thread debba essere svegliato quindi sostanzialmente questa scelta come per la schedulazione dei thread non è sotto il nostro controllo quindi vediamo come possiamo utilizzare queste primitive per andare a fare una sincronizzazione tra diversi thread in particolare immaginiamo che ci sia un programma che fa una computazione eventualmente molto lunga e alla fine della quale deve essere possibile andare a svolgere qualche operazione però non prima che sia terminata la fase di elaborazione quindi immaginiamo che esista questo worker thread che in questo caso fa semplicemente la somma di una certa quantità di numeri e una volta terminato fa un notify il notify scritto così vuol dire che fa il notify allo stesso oggetto quindi a se stesso quindi fa il notify ai thread che sono in attesa sull'oggetto che sta eseguendo questo metodo quindi il programma principale che cosa fa? andrà a creare un oggetto di tipo worker acquisirà il lock sul suo monitor e chiamerà il metodo start il metodo start ovviamente facendo avviare il thread dal metodo run sarà bloccato perché visto che il thread principale possiede il lock sull'oggetto l'altro thread che cerca di eseguire il metodo run resterà bloccato in attesa di poter entrare in questo metodo sincronizzato a questo punto cosa viene fatto? il thread principale si mette in attesa che B quindi l'oggetto worker termini e quindi chiama il metodo wait la chiamata del metodo wait mette sostanzialmente il thread principale in attesa e rilascia il lock sul monitor dell'oggetto B a questo punto il nuovo thread che era stato creato può finalmente entrare in questa zona sincronizzata perché nessun altro thread possiede più il lock sul monitor e quindi fa la sua operazione terminata l'operazione andrà a chiamare il metodo notify il metodo notify cosa fa? sveglia questo thread che era bloccato sulla wait termina il metodo e quindi sostanzialmente rilascia il lock sul monitor di questo oggetto e a questo punto il thread principale può andare avanti e stampare il risultato della computazione svolta da questo thread iniziale ovviamente io posso anche andare a utilizzare dei callable quindi se immaginiamo di avere un task che fa un'operazione di questo tipo invece di utilizzare i metodi wait e notify quello che posso fare è avere un executor service con una callable usare un future e a questo punto fare un'operazione di get il get che cosa fa? sostanzialmente si blocca quindi al suo interno il metodo get non farà altro che andare a utilizzare le primitive che abbiamo visto prima quindi wait e poi notify da parte di chi ha finito l'esecuzione per poter andare a effettivamente svegliare chi era in attesa quindi in generale io potrei utilizzare i metodi di base wait e notify oppure se semplicemente voglio restare in attesa del risultato posso utilizzare un oggetto future generato da un thread callable senza dovermi preoccupare di chiamare wait e notify quindi decisamente in maniera più semplice quindi questo è uno dei motivi per cui sono stati definiti gli executor service e il future in modo da non dover andare a manipolare direttamente queste primitive che possono essere potenzialmente complicate e delicate per capire la complessità di un uso diretto delle primitive di sincronizzazione vediamo questo caso particolare quindi andiamo a considerare questa classe fifo che utilizza un array list per implementare una first in first out abbiamo un array list e abbiamo i due metodi insert che permettono di inserire ed estrarre gli elementi in usando la la policy fifo first in first out quindi quando entrambi i metodi extract e insert sono sincronizzati in modo che le operazioni di add non vengano svolte in maniera poco corretta ovviamente quando io chiamo il metodo extract è possibile che non ci sia nulla quindi se io voglio avere una comportamenti del tipo bloccante invece di restituire una eccezione quello che posso fare è quando la dimensione è uguale a zero mi metto in weight quindi chi chiama il metodo extract viene bloccato finché qualcuno qualche altro thread andrà a chiamare un insert quando viene chiamato l'insert cosa succede oltre ad aggiungere l'elemento si chiamano notify e quindi viene risvegliato uno dei thread che era bloccato qua su questa notify a questo punto cosa succede il thread svegliato andrà a prendere l'oggetto zero farà una remove e restituirà il valore appena recuperato tutto questo concettualmente è relativamente semplice tuttavia dobbiamo tenere in considerazione che esiste un fenomeno chiamato di wake up spontaneo quindi è possibile che senza che nessuno chiami i metodi notify oppure notify all per qualche motivo lo scheduler della virtual machine chiami notify e quindi svegli un thread anche se nessuno ha esplicitamente chiamato notify per cui quando ci si sveglia la notify è possibile che nessuno ci abbia svegliato esplicitamente quindi non ci sia una condizione che io programmatore ho considerato valida per poter svegliare un altro thread per cui la condizione che mi aveva portato a mettermi in wait deve essere di nuovo verificata per evitare di andare a operare in condizioni che non sono quelle che io programmatore ho previsto per cui invece di utilizzare un if qui quello che è opportuno fare è andare a utilizzare un while in modo che quando il thread viene svegliato per una condizione di spontaneous wake up oppure perché effettivamente qualcun altro ha aggiunto un elemento e quindi poi ha chiamato notify io ricontrollo la situazione quindi vado a verificare che effettivamente ci sia almeno un elemento se c'è almeno un elemento vado avanti altrimenti se non c'è nessun elemento quello che faccio è rimettermi di nuovo in attesa quindi capite che la gestione diretta di wait notify delle zone sincronizzate può essere relativamente complicata e richiede molta molta attenzione per cui in generale se io voglio utilizzare wait notify semplicemente per restare in attesa del completamento di un task potenzialmente lungo sicuramente il metodo raccomandato è quello di utilizzare un eserito service e un callable che mi restituisce un future l'uso delle primitive wait notify può anche portarmi a quello che si chiama un starvation ovvero una situazione in cui un thread cerca di fare qualcosa ma non riesce mai a farlo ricordiamoci come funziona la wait allora quando ho la wait sostanzialmente un thread rilascia il monitor il lock sul monitor e si mette su una lista di attesa ovviamente prima di poter fare qualcosa deve riacquisire il lock sul monitor ok e quindi deve aspettare che eventualmente altri thread che sono lì che hanno acquisito il lock lo rilascino e quindi tocchi a questo thread quindi mi ritrovo come thread in un insieme di attesa normalmente una coda e quindi quando arriva una notifica io sono di nuovo pronto ad essere eseguito ma non è detto che possa essere eseguito subito perché magari ci sono altri thread in esecuzione oppure non riesco ad accedere subito al lock del mio monitor e quindi è possibile che nel momento in cui finalmente come thread ho di nuovo la possibilità di accedere la condizione che mi aveva portato a essere svegliato e quindi a poter fare qualcosa ad esempio la presenza dell'elemento nella mia FIFO in pratica non sia più vera e quindi cosa succede? vado di nuovo in attesa ed è possibile che nel momento in cui sono svegliato non riesca ad accedere subito alle risorse e quindi nel frattempo quelle risorse che io avrei potuto consumare scompaiono di nuovo e quindi un thread è possibile che continui a rimettersi in attesa senza poter fare nulla questa è quella che si chiama normalmente una condizione di starvation e che è possibile se i miei thread non sono combinati correttamente oppure semplicemente se ho molti thread che cercano di acquisire e di consumare risorse prodotte da altri thread e quindi è molto difficile cercare di evitare queste condizioni in modo da garantire che ogni thread possa effettivamente svolgere il suo ruolo oltre alle primitive di Wade e Notify in Java è possibile andare a utilizzare le altre primitive di sincronizzazione che sono sostanzialmente il semaforo il countdown latch e il cyclic barrier che permettono meccanismi di sincronizzazione un po' più sofisticati però questi meccanismi di sincronizzazione non sono oggetto di questo corso sappiate che esistono e potete utilizzarli in maniera un po' più complicata ma l'idea è che se avete bisogno di meccanismi di sincronizzazione più complicati probabilmente il vostro programma è molto più complicato quindi dovete studiare molto meglio quelli che sono i meccanismi di sincronizzazione tra i vostri thread in modo da garantire che tutto funzioni correttamente